Ha presentato questo esposto in cui lamentava la presenza di numerose persone che salivano in un appartamento in Mondovi, numerose persone che si intrattenono poi con delle ragazze straniere cinesi. Da questa segnalazione è partita l'attività di indagio della squadra mobile che si è sostanziata in attività di intercettazione telefonica e di appostamento e beninamento.